che cos'è la poesia in un mondo dove si ricerca la perfezione dove chi non è perfetto non è accettato la poesia secondo me è una gabbia con lo sportello aperto che raccoglie tutte le nostre insicurezze le nostre malinconie le nostre fragilità e aprendoci la mente ce le fa digerire facendoci apprezzare il regalo immenso che è la vita ti sembra di non aver fatto niente ti sembra di non aver fatto abbastanza ma l'inconia la gente scava dalle rie sottopelle le falagrazioni inattese dissolvono i tuoi progetti salva te stesso salva ogni tua ruga non ogni tua cosa alza gli occhi al cielo non fissare la punta delle tue scarpe non ti porteranno lontano se non cerchi l'orizzonte tatua la speranza sulla pelle apprezza l'abitudine anche se noiosa perché la vita è un regalo sempre anche se è la carta stropicciata la poesia quindi ci aiuta a riconoscere la bellezza ma non quella esteriore ma quella più profonda più essenziale ricordandoci che dobbiamo connetterci non solo in rete ma connetterci con noi stessi